Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme questo verso che si trova in Giovanni 19,37, lo meditiamo insieme perché è molto importante. E un'altra scrittura dice, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dal momento che Gesù nel Nuovo Testamento è l'agnello pasquale che toglie i peccati dal mondo, leggiamo insieme in Giovanni 1,29, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In primo Corrinzi 5,7 dice che Cristo è la nostra Pasqua. E dice, purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Benedetto sia il Signore, gloria sia resa a Dio. Cioè, Cristo, noi dobbiamo guardare a Lui e ci dobbiamo spogliare di ogni peccato e separarci da chi persiste nel peccato. Anche dai membri della Chiesa che persistono nel peccato. Signore, aiutaci. Cioè, non è che non dobbiamo partecipare a causa loro nella Chiesa. Non è che non dobbiamo avere quell'educazione civica con i fratelli, perché a volte oltrepassiamo i limiti. Ma non dobbiamo condividere molto del nostro tempo, a meno che ci siano buone relazioni spirituali. Perché ti posso assicurare che ci sono tanti credenti che vanno in Chiesa. Vanno più felici prima che quando tornano. E questo è grave. Perciò, sorella, fratello, se ti succede questo, a causa di qualche fratello, di qualche sorella che non c'è un buon feeling spirituale, mantieni l'educazione civica, ma non stare troppo insieme. Troppe comunelle nella Chiesa non sempre aiutano. Ti raccomando, sii saggia. Sii saggio. Perché se devi tornare più turbato di quando vai in Chiesa, più turbata di quando entri in Chiesa, vuol dire che c'è qualcosa nell'atmosfera che non funziona. Può dipendere da te, non sappiamo, però tu ti devi sapere regolare di conseguenze. In Primo Corinzi 5,7 rileggiamo questo passo. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta. Come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cioè Cristo. Noi dobbiamo guardare a Lui e ci dobbiamo spogliare di ogni peccato e separarci da chi persiste nel peccato anche dai membri della Chiesa. Nel Salmo 1, il verso 1, dice così Beato, felice Il Signore ci vuole beati, ci vuole felici. Beato è una parola che parla di beatitudine celeste e noi parliamo di cose spirituali. Beato è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori. No, perché si va a chiudere in un convento, si va a chiudere in qualche posto, no, no, no. In Primo Corinzi 5, 10 lo Spirito Santo chiarisce in un modo speciale, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i ladri o con gli idolatri perché altrimenti dovremmo uscire dal mondo, dobbiamo andare sulla luna, dove dobbiamo andare? Non dalle persone non salvate perché dobbiamo evangelizzare, anzi Dio vuole che noi dobbiamo testimoniare a queste persone. se diciamo no, no, scostati per piacere, non mi sporcare, non posso stare con te, no, no, no. Noi dobbiamo testimoniare. Gesù dice in Atti capitolo 1, verso 8, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra, cioè noi dobbiamo restare in mezzo alle persone. Leggiamolo questo verso. Dobbiamo chiedere al Signore che ci potenzi attraverso la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, quando lo Spirito Santo verrà su noi e quello comincia nel momento della nuova nascita e poi man mano dobbiamo ricevere la pienezza e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. E non deve essere solo una testimonianza verbale, ci deve essere anche una coerenza con quello che diciamo perché noi siamo la lettera scritta anche quando non parliamo. L'Epistola ai Filippesi ci aiuta nel capitolo 2 verso 15 perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri risplendere con la luce del Vangelo noi che viviamo una vita diversa e restiamo come la statua della libertà a New York con la luce in mano in mezzo a un mondo pieno di tenebre. signori aiutaci a mantenere costantemente mantenersi così ma anche di esempio in una generazione storta una generazione storta che vuol dire c'è l'immagine di una persona con la schiena dorsale storta che non riesce a leggere non riesce a leggere con la colonna vertebrale morale piegata dal peccato e verso il peccato e neppure con i credenti che continuano nel peccato ce lo spiega meglio nel verso 11 di primo corinzi 5 leggiamo ma quel che leggiamo il 10 e poi leggiamo anche l'11 così comprendiamo e non diventiamo schivi che cerchiamo di allontanarci dalle persone che dobbiamo restare insieme non del tutto però con i fornicatori di questo mondo o con gli avari e i ladri o con gli idolatri perché altrimenti dovremmo uscire dal mondo perciò dobbiamo restare testimoniare avanzare nella testimonianza nel comportamento il verso 11 ci chiarisce in modo che comprendiamo bene ma quel che vi dico è di non mischiarvi con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore un avaro un idolatra un oltraggiatore un ubriacone un ladro con quelli non dovete neppure mangiare che che linea grazie signore non dovete neppure mangiare non so se ti è capitato di mangiare con alcuni che ti mettono a disagio signore aiutaci che vivono una vita si presentano come credenti andiamo a mangiare la pizza usciamo insieme e sembra che non c'è nulla di male ma dobbiamo vigilare i nostri argomenti mentre mangiamo la pizza dico quali sono lo scopo e di natura spirituale perché molte volte mangiare con credenti di un certo tipo ci mettono a disagio a volte ti trovi con chi non sai dove devi guardare oppure sono talmente sensuali che ti mettono a disagio a me succede mi trovo con una sorella tutta aperta che non so dove devo guardare mentre mangio o con qualche fratello che è tanto irrequieto perché nel ristorante guarda a destra e a sinistra dà l'impressione che viene attratto peggio di uno del mondo punta guarda cerca di conquistare sensualmente così messo male che non sai che cosa devi pensare neppure mangiare a volte sono così agitati sensualmente che ci imbarazzano quando lo scopo non è per l'edificazione spirituale ricordati che le cattive compagnie non aiutano la parola del Signore ha delle protezioni quando la leggiamo che diventano come dei guardrail sulla strada in primo corinzi capitolo 15 verso 33 dice leggiamolo le cattive compagnie non vi ingannate attenzione non ci inganniamo le cattive compagnie corrompono i buoni costumi ricorda ti voglio ricordare sorella ascolta fratello ascolta anche tu ti voglio ricordare che tanti matrimoni vengono rovinati dagli amici di famiglia e in questi ultimi tempi ancora un po' più grave è che tra fratelli e sorelle molte volte vengono fatti degli avans che proprio a causa di questa amicizia di questa comunella si guasta il matrimonio e si guasta anche la vita spirituale le cattive compagnie corrompono i buoni costumi in questi ultimi tempi stiamo vedendo come il diavolo rovina 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 lo dico con calma perché c'è qualcuno che capisce qualcuna che capisce quel che sto dicendo eppure mangiare insieme non che è peccato mangiare come abbiamo detto ieri sera che Daniele era peccato mangiarsi ciò che veniva offerto agli idoli ma perché ci sono delle cose che non funzionano come devono funzionare ricorda che tanti matrimoni sono rovinati dagli amici sii sobria sii sobrio aiutaci signore tu dici ma tu sei un poco antico nella mia chiesa ho detto alle sorelle sorelle se per caso piove e io sono solo in macchina portatevi l'ombrello perché io se sono solo un passaggio non ve lo do ma non perché sono pericoloso e neppure tu lo sei ma noi dobbiamo guardarci dal male e dall'apparenza di male eppure perché c'è un proverbio che dice che l'occasione fa l'uomo ladro se tu lasci i soldi sul tavolo al bar e vai al bagno quando torni non li trovi ma non è che quello era un ladro è perché tu gliel'hai lasciato davanti hai capito leggiamo il verso 34 per cortesia sono delle precauzioni che dobbiamo prendere ridiventate sobri forse una volta eravamo adesso stiamo diventando un po' più liberi ma certe libertà non stanno creando benessere vedo in certe chiese che non funziona come pensavamo i giovani che devono andare alla spiaggia insieme perché si devono il pastore è giovane con le sorelle giovani poi si girano si voltano sembra che non c'è nulla di male ma piano piano sono successe molte cose signore aiutaci facciamo prevenzione sorella fratello non solo il male ma l'apparenza di male però comunque l'occasione fa l'uomo ladro ricordati sempre si comincia piano piano con una mano sulla spalla con una mano sul ginocchio e poi man mano succede di tutto e di più il diavolo non dorme non gli diamo occasioni leggiamo il verso 34 un'altra volta ridiventate sobri per davvero e non peccate perché alcuni non hanno conoscenza di Dio e qui non ci loda lo dico a vostra vergogna mi piace Paolo quanto viene proprio guidato dallo Spirito Santo magari qualcuno poteva prendere questo parlare come dire veramente siete maturati adesso andate da soli lasciate il marito a casa e andate con i fratelli oppure lasciate la moglie a casa e andate con le sorelle come dire siamo diventati maturi invece San Paolo dice un'altra cosa dice che se fate così lo sto dicendo a vostra vergogna perché non è solo il male ma l'apparenza di male chi mi vede non sa e succede di tutto e di più o anche il pastore ha un'altra sorella perché l'ho visto che era solo in macchina ed eccoci qua mi ricordo che quel grande predicatore che Dio si è chiamato a casa all'età di 99 anni il signor il fratello Billy Graham quando doveva andare in qualche posto la sua moglie era sempre non era geloso di lui e credo neppure lui di lei ma era una precauzione che prendevano per le circostanze che vivevano signore grazie vedi che atmosfera c'è perciò puoi già capire se ti accorgi che l'atmosfera è più montana che spirituale fermati prima perché poi farai delle brutte esperienze bene esodo 12 46 leggiamo insieme si mangi ogni agnello per intero in una casa non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso in primo pietro 1 19 dice ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia leggiamo il 18 e 19 così comprendiamo meglio di chi parliamo sapendo che non con cose corruttibili con argento con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di agnello senza difetto né macchia abbiamo letto in giovanni 19 37 signore aiutaci questa mattina dice guardare a colui volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto quando abbiamo letto nell'esodo lo vogliamo rileggere esodo 12 46 di chi parla si mangi ogni agnello per intero in una casa non portate fuori nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso in secondo corrinzi 5 19 dice così infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione Dio stesso dice prende l'iniziativa computando addebitando il nostro debito a Cristo per dare a noi la sua giustizia ciò vuol dire che in tutto questo che cosa c'è c'è il simbolo dell'agnello pasquale che è Cristo come abbiamo letto in primo corrinzi 5 7 Dio in Cristo che ci riconcilia col mondo poiché anche la nostra Pasqua cioè Cristo è stato immolato ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo colui che è crocifisso noi guardiamo a colui che è stato crocifisso volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto attenzione qui nell'insieme leggiamo qualcosa di molto bello e di molto importante non quelli che lo hanno crocifisso noi dobbiamo guardare a lui non quelli che realmente hanno messo i chiodi ma nella simbologia che stiamo leggendo Cristo è il punto di riferimento che noi dobbiamo guardare orgeranno lo sguardo a coloro che hanno trafitto noi come esseri umani che a causa del nostro peccato Dio in Cristo ha debitato a lui il nostro debito per dare a noi la sua giustizia e noi dobbiamo guardare a lui bellissimo questo hai capito questo incrocio di parole non è un incrocio per caso è perché Dio sta srotolando il suo disegno di salvezza per me per te e ci dà un'immagine chiara a chi dobbiamo guardare per essere salvati per essere liberati per ricevere grazia per andare a lui per ricevere il perdono per ricevere la vita eterna per la nostra alimentazione un solo punto di riferimento gloria sia resa a Dio e si aggiunge che Dio era in Cristo quando ha fatto questa operazione in mio e in tuo favore e dice qualcosa di molto importante che noi dobbiamo guardare a lui rileggiamo questo verso perché te lo voglio dire io sono chiamato a parlarti della verità poiché anche Cristo la nostra Pasqua anche la nostra Pasqua cioè Cristo è stata immolata volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto lui è stato trafitto per le nostre trasgressioni perciò per spazzare via e pulire le nostre trasgressioni noi dobbiamo guardare a lui grazie Signore che bello Signore aiutaci in primo Corinzi capitolo 5 verso 19 leggiamo insieme che sei grande Signore Dio stesso prende l'iniziativa leggiamolo insieme infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo non imputando agli uomini ma debitandolo al Signore Gesù addebitando a lui le nostre colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione il nostro peccato a Gesù allora chi dobbiamo guardare a colui che è stato trafitto per noi la simbologia prende corpo non sono quelli che lo hanno trafitto che devono guardare a lui perché loro hanno fatto la loro parte ma noi dobbiamo guardare a lui e ha messo in noi credenti la parola della riconciliazione e che cosa dobbiamo dire dobbiamo dire ciò che dice la scrittura cristiano cristiana noi siamo autorizzati da Dio a dire ciò che dice la scrittura quando c'è distrazione da chi insegna la scrittura che dobbiamo guardare agli idoli siamo fuori centro non siamo nel piano di Dio quando guardi a qualsivoglia persona che può essere brava quanto sia credente anche un santo Paolo stesso dice siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo perciò il nostro punto di riferimento lo dice in Primo Corinzi 11 1 Primo Corinzi 11 guardiamo se è così Primo Corinzi siate miei imitatori come anch'io sono di Cristo lo ripete più volte ciò vuol dire che ogni volta che io e te guardiamo altrove ti voglio elencare protettore del tuo paese errore protettore della nazione San Francesco errore la Madonna errore tutti bravi tutti da imitare per la loro le loro opere di santificazione esempi che ci aiutano a dire ce la posso fare anch'io ma il punto di riferimento noi credenti dobbiamo sapere questo perché se no non riceviamo risposte da Dio è Dio che parla nella sua parola noi dunque dobbiamo fare guardare e dire ciò che dice la scrittura abbiamo letto il verso 19 leggiamo anche il 20 5 secondo Corinzi 5 20 noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro ti supplico nel nome di Cristo sii riconciliato sii riconciliata con Dio un ambasciatore non può dire ciò che gli dice la testa se tu guardi tutti gli ambasciatori anche in periodo di guerra dove ci possono rimettere la vita portano il messaggio che gli è stato dato dal presidente o dal consiglio della loro nazione io finché Dio mi darà vita ti dirò sempre di guardare a Cristo perché Cristo è il punto di riferimento per la nostra salvezza è stato mandato da Dio è venuto da parte di Dio ha dato la sua vita e qui vediamo che Dio era in Cristo perciò quando noi ci rivolgiamo e lui aggiunge sempre queste cose dicendo che le due cose camminano insieme in Giovanni 14 1 dice voi credete in Dio avete fede in Dio abbiate fede anche in me perché è la stessa cosa perciò noi il punto di riferimento che abbiamo dobbiamo saperle queste cose non soltanto ma come servitori del Signore come coloro che abbiamo consacrato la nostra vita al Signore come credenti noi dobbiamo dire la verità se no è meglio che stiamo zitti perché facciamo meno peccati se stiamo zitti ti è chiaro perché poi tu non hai riscontri nella tua vita non vedi mai risultati e ti scoraggi se io ti do indicazioni di qualcosa che poi non ti funziona tu che cosa fai mi dici ma non funziona ma non può funzionare perché la ricetta che Dio ci dà non dice questo noi dobbiamo se vogliamo vedere risultati dobbiamo seguire quello che dice Dio allora vediamo risultati se noi seguiamo secondo noi o secondo ci dicono gli altri senza una base che è verità noi non vediamo risultati perciò noi vediamo il cristianesimo che è scema ogni giorno perché non vede risultati perché le indicazioni che vengono date non sono Vangelo è un altro Vangelo è quello dell'avversario che lo interpreta diversamente dicendo tanto possiamo aggiungere anche questo era una brava persona nel cristianesimo si sta facendo come nella città di Atene al tempo di Paolo che avevano pieno tutta la città di idoli e poi visto che si trovavano hanno fatto anche un santuario all'iddio sconosciuto perché pensavano se per caso ne abbiamo dimenticato qualcuno che non si ritorca contro di noi perciò gli assegniamo un qualcosa di pulito e diciamo no abbiamo pensato anche a te ti abbiamo fatto un monumento dove c'è scritto all'iddio sconosciuto perciò vatti a accomodare lì come abbiamo fatto noi in Italia abbiamo messo un santo per ogni giorno nei paesi poi abbiamo detto può darsi che qualcuno si dispiace facciamo il primo di novembre tutti i santi perché se qualcuno lo abbiamo dimenticato ecco qua abbiamo accontentato tutti ma abbiamo accontentato tutti ma non abbiamo fatto contenti a Dio se così bisognava fare ieri sera abbiamo parlato di di quei quattro tre amici più Daniele presso il regno di Nabucodonosor potevano accontentare anche lui c'è Dio e ci sono anche gli altri che succede e poi non vediamo risultati io voglio che tu vedi risultati perché quando tu segui la verità a macchia d'olio si allarga la verità di Dio nella tua vita e vedi la tua vita trasformata vedi che il Signore opera perché tu ti muovi nelle direttive che vengono dalla parola del Signore il nostro rapporto con il Signore è virtuale perché è spirito e perciò noi dobbiamo imparare ad essere così esercitare la fede e muoverci secondo i principi man mano che leggiamo noi facciamo anche se fisicamente non vediamo niente però funziona perché noi sappiamo che Dio è spirito Gesù lo dice in la sua natura leggiamo insieme in Giovanni 4 24 il Feo di Dio ci ha dato gli indirizzi di come di chi è Dio Dio è spirito la sua natura è invisibile quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e in verità ci dobbiamo esercitare la sua natura spirituale è invisibile ti posso dare qualche esempio per comprendere noi preleviamo attraverso lettere dai satelliti vediamo la tv quando viene l'antennista a mettere l'antenna o la parabola la mette verso il satellite ha delle attrezzature che regolano la parabola in modo che prende il segnale con quel gancio che c'è al centro e tu vedi la tv se la parabola la mette girata diversamente tu non vedi niente sulla tv lui lui non vede il satellite ma sa che il satellite si trova in quella direzione attraverso l'attrezzatura che ha punta la parabola nella giusta direzione e tu vedi la televisione Dio è spirito non lo vediamo ma la scrittura ci dice questa mattina volgeranno lo sguardo verso colui che è stato trafitto che vuol dire verso Gesù signore aiutaci la tua tv mette l'antenna verso il satellite quando metti i pannelli solari ho visto che fanno delle prove su dei programmi perché vengano messi esposti a sud perché il sole gira come gira e si ha più produzione non c'è un punto di riferimento dove c'è scritto sud nel cielo nessuno lo vede ma attraverso l'attrezzatura si sa che sud è lì come i navigatori sanno che nord è lì attraverso le formule che ci sono non c'è un segno che si vede nord sud ma si opera con questi principi e funziona fruttano di più fruttano di meno i pannelli se sono esposti in un certo modo e chi è competente si muove in quel modo noi dobbiamo sapere che Dio è spirito e ci dobbiamo rivolgere a Lui volgeranno lo sguardo a colui che è stato trafitto Dio in Cristo per per riconciliarci ed ora noi dobbiamo guardare a Lui secondo Corinzi 5 20 io finché avrò vita ti dirò sempre ciò che dice Dio noi dunque facciamo d'ambasciatori per Cristo io questo sto facendo ma noi credenti tutti come se Dio esortasse per mezzo nostro per mezzo di te credente dicendo ti supplico nel nome di Cristo riconciliati con Dio ti devi rivolgere così al Signore le indicazioni che Lui ci dà come l'antennista fa così così dobbiamo fare noi Signore aiutaci io ti devo dire quello che dice la scrittura ci sono delle esperienze che man mano si fanno abbiamo certe volte delle radioline con delle antennine che in casa non prendono non lo sentiamo li mettiamo sul balcone sappiamo che cominciamo a sentire perché perché c'è un satellite che rilascia quella quella frequenza e lì viene captata noi dobbiamo imparare Dio e Spirito non vediamo vero però noi sappiamo che quando ci rivolgiamo a Lui nel modo che Lui dice sappiamo che funziona sempre così dobbiamo imparare così vediamo risultati nella nostra vita Signore aiutaci anche anche col nostro iPhone quando non prende siamo preoccupati di dire aspetta mi metto dove posso vedere sappiamo non vediamo il satellite ma sappiamo che dobbiamo metterci dove non ci sono ostacoli così prendiamo noi abbiamo avuto qui delle difficoltà negli anni passati avevamo una televisione quando non eravamo via satellite avevamo in direzione tra qui e la televisione locale ci sono degli alberi di pioppo che si sviluppano nei mesi estivi durante l'inverno funzionava la tv durante l'estate no perché le foglie che crescevano ostacolavano il segnale perciò la televisione si vedeva come se fosse nevicato perché non sparava nella giusta direzione noi dobbiamo imparare sorella ascolta fratello tu devi imparare a volgere lo sguardo del tuo cuore verso colui che è stato trafitto anche con gli occhi chiusi devi rivolgerti a lui perché è lui il punto di riferimento e allora vedrai i raggi della sua presenza che fluiscono nella tua vita e trasformano la tua vita signore aiutaci questa mattina io ti devo dire così non vediamo il satellite ma noi facciamo così e basta e ciò dobbiamo esercitare la fede la fede su che cosa su ciò che dice la parola di Dio vuoi vedere i risultati nella tua vita quando leggi la parola quando ascolti la parola fai quello che dice la parola perché Dio onora la sua parola e tu avrai dei risultati nella tua vita vedrai la salvezza di Dio vedrai la guarigione vedrai il Dio che opera nella tua vita vedrai l'effusione dello Spirito Santo che si riversa verso di te tu ti devi esercitare in questo modo perché se no diversamente perdi il tempo perciò abbiamo un cristianesimo in questo modo per cortesia dia ai tuoi insegnanti di religione che insegnino ciò che dice il Vangelo perché così vedrai la gloria di Dio che si manifesta nella vita di coloro che si muovono come Dio comanda alleluia Signore aiuti dobbiamo essere stabili quando una parabola fa così e cosà la televisione non si vede bene dobbiamo stringere i bulloni la parola fede vuol dire stringere noi dobbiamo stringere il nostro rapporto con Dio nel modo che Dio dice Signore grazie allora vedrai i risultati nella tua vita il profeta Isaia nel capitolo 40 verso 28 dice così non lo sai tu non l'hai mai udito il Signore Dio eterno il creatore degli estremi confini della terra egli non si affatica e non si stanca la sua intelligenza è imperscrutabile oh alleluia 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 siamo noi che vogliamo insegnare come deve fare no quando noi ci muoviamo come lui ha già fatto già organizzato tutto ha messo già tutto nel modo che noi ci dobbiamo muovere alleluia la sapienza di Dio è imperscrutabile inispiegabile ma funziona viene riportato questo verso anche nell'epistola ai romani nel capitolo 11 verso 33 perciò non è qualcosa che qualcuno potrebbe dire questa è roba dell'antico patto no oh profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie alleluia leggiamo il verso 34 giusto da capire cosa dice dopo infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore noi lo conosciamo attraverso la sua parola e chi è stato il suo consigliere noi non siamo in grado di poter consigliare Dio Signore grazie l'uomo più forte viene meno ma mai il sommo pastore il supremo pastore così come lo chiama Pietro in primo Pietro 4 5 5 in primo Pietro 5 4 dice quando apparirà il supremo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce l'uomo più forte viene meno ma mai il sommo il supremo pastore gloria sia resa a Dio egli è la fonte dell'energia che noi abbiamo bisogno leggiamo Isaia 39 poi leggiamo anche 28 e poi chiedo scusa Isaia 40 28 e 29 non lo sai tu non l'hai mai udito dove ti trovi ascolta tu che hai o fai ti dirigi in altre direzioni il Signore Dio eterno il creatore degli estremi confini della terra egli non si affatica e non si stanca la sua intelligenza è imperscrutabile il verso 29 leggiamo Signore grazie per la tua egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato è lui che imparte energia verso i suoi servi verso chi guarda a lui Signore aiutaci perciò la scrittura dice volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto perché Dio è in Cristo e noi dobbiamo guardare lì verso di lui sempre 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 Signore aiutaci che promessa connettiamoci si direbbe nel senso tecnico creiamo questo rapporto diretto con il Signore aiutaci Signore dobbiamo mantenere una posizione stabile lui ti posso parlare di me 57 anni fa lui mi ha dato la nuova nascita lui mi ha dato lo Spirito Santo lui mi ha guarito lui mi ha aiutato quando io comincio fin che mi sveglio la mattina o durante la notte o durante il giorno io punto verso quella direzione non vedo niente ma so che egli ha operato nella mia vita non mi distraggo minimamente alzo gli occhi ai monti ma non mi interessano perché so che ogni volta anche adesso io mi rivolgo a lui quanto intercedo quanto prego ho un punto di riferimento fisso noi così dobbiamo stabilire dobbiamo avvitare la nostra parabola in modo che captiamo il segnale continuamente e allora abbiamo sempre una connessione continua non andare a destra e a sinistra con ogni vento di dottrina dovunque ti portano con insegnamenti strani connettiamoci dobbiamo mantenere una posizione stabile lui mi ha fatto nascere di nuovo lui mi ha battezzato nello spirito santo lui mi ha guarito lui 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 gloria sia resa al signore è venuto un fratello americano da noi ha detto quando io sentivo dire lui 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 pensavo che era il nome di una persona ho detto ma dov'è lui e poi ha capito che lui è Gesù noi dobbiamo fare così è colui che è fermo quando noi avvitiamo la parabola il nostro rapporto manteniamo saldo la connessione quando ci avvitiamo col tubo che trasferisce la sua gloria nella nostra vita e continuiamo così allora vediamo la nostra vita che cambia l'alimentazione che funziona perché lui è stabile nel capitolo 26 del profeta Isaia che ci dà direttive di quanto è prezioso questo punto di riferimento che noi non dobbiamo mai perdere leggiamo insieme 26 a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida la parola chiave è pace pace della mente pace del cuore pace dell'anima alleluia io anche oggi faccio da ambasciatore come abbiamo letto no noi siamo ambasciatori noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro ti supplico fai in questo modo perché come ambasciatore di Dio non posso darti un'altra indicazione se la parola di Dio dice a colui che è stabile in questo modo lui dona la pace la pace del cuore la pace dell'anima la pace della mente la pace di Cristo perché lui è il principe della pace perché vai altrove perché vai a destra e a sinistra e ti dico fai così così chiudi la porta anche alla doppiezza dei tuoi pensieri perché quando tu sei sbalestrato sbalestrato è come un ombrello che è girato dal vento le balestre sono sotto sopra non devi restare con la mente sbalestrata perché quando la mente è sbalestrata c'è un ombrello che è a rovescio le tempeste lo portano da tutte le parti per evitare questo come dice Giacomo nel capitolo 1 dal verso 6 al verso 8 se siamo con una mente sbalestrata allora ma chiedere con fede senza dubitare mantenere la posizione perché chi dubita è simile ad un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là perciò il profeta dice egli dà forza allo stango e accresce il vigore a colui che è spossato a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace la pace perché in te confida e questo ci fa evitare di essere come un'onda del mare leggiamo il verso 7 8 di Giacomo un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore vedi lo dice la parola del Signore perché è di animo doppio instabile in tutte le sue vie se tu sei una persona instabile non riceverai mai dal Signore ti stanchi ti avvilisci ti indebolisci perdi la voglia di continuare e il diavolo ti salta addosso come una scimmia e ti prende prigioniera ti prende prigioniero e non sei più padrone di te stesso Signore aiutaci aiutaci questa mattina io faccio d'ambasciatore e ti dirò in Isaia 24 26 4 dice così Signore aiutaci questa mattina da direttive alla sorella confidate per sempre nel Signore perché il Signore sì il Signore è la roccia dei secoli egli è come un rifugio nella roccia Signore grazie quando ero in Svizzera c'erano nelle montagne del Gottardo dei grandi rifugi dove si restava al sicuro dei rifugi dove li fanno come dei cavò dove c'è anche l'oro che abbiamo portato dall'Italia e in Svizzera i nostri governi negli anni perché nella roccia non c'è possibilità di bombe che possono fare qualcosa rileggiamo rileggiamo questo verso di Isaia confidate per sempre nel Signore perché il Signore sì il Signore è la roccia dei secoli egli è come un rifugio nella roccia quello che dice oggi dice domani e infatti la scrittura ce lo presenta così egli agisce sempre allo stesso modo in ebrei 13.8 Gesù Cristo chi è? Gesù Cristo ma ci sono anche gli altri no Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno e la scrittura cosa dice? chi dobbiamo guardare? volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto perché lì egli ha cambiato il nostro destino eterno comincia ad imparare a fare così comincia da oggi e di io oggi ho imparato qualcosa ho imparato che per vedere il cambiamento nella mia vita devo guardare al Signore Gesù e quando ti prospettano altre cose di ciò provato testimoni come hanno testimoniato tante anime che hanno incontrato Cristo e quando gli parlavano di altri non ci pensare io ci ho provato tanti anni non ho visto mai risultati nella mia vita ma quando Cristo è entrato nel mio cuore tutto è cambiato perciò Cristo alleluia benedetto sia il Signore ebbene vogliamo andare al Signore insieme preghiamo Signore veniamo a te ti ringraziamo per le indicazioni chiare che troviamo nella tua parola ti prego per la sorella per il fratello per l'amico per l'amica Spirito Santo di Dio inculca questo principio di rivolgersi a te per vedere la sua vita che cambia per vedere i suoi problemi che vengono risolti per vedere la tua luce e la tua pace che penetra nella sua vita sì Spirito Santo di Dio imprimi potentemente nel suo cuore questo principio che tu ci hai dato questa mattina e che lo sguardo del suo cuore si è elevato continuamente verso di te per ricevere la luce necessaria la forza necessaria la sapienza necessaria sì Signore ti prego per lei ti prego per lui Spirito Santo di Dio imprimi questi principi nei nostri cuori e che possiamo guardare a te continuamente fino al tuo ritorno Padre Dio ti ringraziamo per la tua parola per le spiegazioni semplificate che tu porti davanti a noi per semplificarci il modo di adorare di cercare di onorare te di camminare con te Dio Padre Onnipotente ti prego nel nome di Gesù spandi per lo Spirito Santo i tuoi principi nei nostri cuori imprimili potentemente perché possiamo guardare a te per vedere la nostra vita trasformata dal potere della presenza del tuo Santo Spirito che rifulge della presenza di Dio che rifulge della tua presenza per instillare nella nostra vita la tua vita Signore te lo chiediamo insieme tutti nel nome di Gesù colui che ha promesso che il Consolatore viene e ci guida ci parla ci istruisce e ci conduce nella giusta direzione ci dà il discernimento come fare le giuste scelte in ogni situazione ti ringraziamo per la tua parola ti prego scolpiscila nei nostri cuori e facci agire di conseguenza così come tu hai detto nel nome di Gesù Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org